Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Solo per questo video vi risparmio la sigla, però non fateci l'abitudine Insomma, era un po' che non caricavo contenuti sul canale E questo video è appunto per annunciarvi che DK è tornato È malato È tornato È negato È tornato È malato È tornato DK è vegetariano Non so se c'è te lo è vegetariano DK è tornato È tornato Ma i format saranno completamente diversi Ovvero, continuerò a girare giochi di magia per tutti quelli che piace quel tipo di format, ok? Quindi effetti magici, tutorial, piuttosto che informazioni sul mondo magico Ma in questi mesi d'assenza ho avuto il tempo per riflettere sul fatto che io non voglio assolutamente una fanbase basata solo sull'illusionismo Mi spiego meglio Sì, ok, mi può far piacere che qualcuno guardi i miei video tutorial o i miei video di magia Però voglio che siano interessati a me come persona E che quindi se carico un video di magia vi fa piacere Mentre invece se carico un iMai vi fa piacere allo stesso modo Facendo così possiamo accontentare tutte e due le fazioni e anche la fazione di mezzo Nel senso, se sarai interessato unicamente ai miei contenuti magici I video di magia o i tutorial non mancheranno da questo canale Invece se sei interessato a DK, Damian come persona e personaggio di quello che fa Allora avrai anche quel tipo di contenuti che saranno alternati ai video di magia Se invece sei interessato alla magia e al personaggio Avrai tutte e due le cose insieme Avrai i video tutorial quando fai video tutorial E i video personali che siano vlog, iMai, iMai, iMai in altri momenti Insomma, quello che sto cercando di fare è di creare un canale non monoto E non basato sulla stessa tipologia di video di continuo Quindi così potrò creare nuovi format o prendere spunto da altri format che esistenti E provare a realizzarli con voi, insieme a voi Prima di prendere questa decisione importante avevo fatto un sondaggio su Instagram E se non mi segui su Instagram ti lascio scorrere da qui la tendina che ti suggerirà il mio nome su Instagram E in questo sondaggio appunto vi chiedevo cosa avrei dovuto farne del mio canale Siete stati molto indecisi tutti Perché alla fine infatti il sondaggio è finito col 50% e 50% Questo significa che alla metà delle persone che mi seguono interessavano contenuti diversi E all'altra metà interessavano solo contenuti magici A questo punto mi è restato altro che unire le due cose Beh ragazzi questo era soltanto un video informativo Dal lunedì ricomincerò a caricare i video e quindi li avrete i vostri contenuti Avrete un video a settimana e il giorno è il lunedì Per chi si stesse chiedendo lo radio alle 2 Ricordate quindi di seguirmi su Instagram dove faccio prendere molte decisioni a voi Faccio tanti sondaggi o meglio ne faccio un po' Se questo video vi è piaciuto e siete contenti che sono tornato su YouTube Cliccatevi il pollice in su direttamente E lasciatemi nei commenti che format volete che io porti Quindi magari un format che vi ha suggerito vostra nonna Un format che avete visto da un altro YouTuber Un format di vostra creazione Scrivetelo qui sotto Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto E ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao